Non è silente, non è invadente e piace alla gente. A Tambur Battente, un programma di Nicola Mauro Marino, Simone Ortolani, Daniele Perini. Presenta Daniele Perini. Il primo amore non si scorda mai, andalo il primo amore. Ma ci picchia. E' vero che tu facevi l'animatore sulla nave del sole? Per l'appunto sono vestito così, sono nato facendo il marinaio, l'animatore, prima il marinaio, poi l'animatore, quindi poi ho preso il timone dell'orchestra a casa dei, quindi insomma ho tutti i gradi per poter comandare questa splendida nave. Allora Mirko ci farà compagnia in queste otto puntate qui ad Andalo, a Tambur Battente, Mirko Casadei! Arriva da Perugia, è stata Miss Mondo Italia 2009. A Tambur Battente, a Tambur Battente, Alice Taticchi! Eccola! Sono Basito! Buonasera a tutti! Ciao Daniele, buonasera! Basito! Amico Casadei! Eh? Cosa ci puoi dire? È veramente esistito Atlantide? Beh, di Atlantide parla Platone riferendo informazioni provenienti dall'Egitto, sostenendo che ci sono state molte catastrofi di origine extraterrestre, fra le quali tre sono state molto importanti e gravi. E fra queste tre, la principale, più grave e importante avvenne 9.000 anni prima del suo tempo, cioè verso il 9.500 avanti Cristo. In quell'epoca esisteva una civiltà avanzata, al di là dell'Oceano Atlantico, che in quell'epoca era navigabile, poi nel corso di una notte di un giorno, uno tsunami delle ondate gigantesche distrussero quella civiltà, devastarono il Mediterraneo. E' entusiasmante! E' intelligente! E piace alla gente! A Tambur Battente, un programma di Nicola Mauro Marino, Simone Ortolani, Daniele Perini.